Ne ho sentite di ogni genere sulla prima volta. La verità è che sarà sempre diversa da come te l'aspetti. Priorità, io, Eva, scopare. Me lo tenete, Tommaso? Sì o no? Scordatelo. No. No. E chi è Tommaso? A volte la vita è strana. Prima ti illude che andrai a letto con la ragazza più bella della scuola. Allora alle otto. Poi al suo posto ti piazza tra i piedi un vecchio uscito dal nulla. Sono Cesare, il nonno. Tu nonno? Non era morto? No, alla fine no. Non lo so, è lui che voleva venire. In una situazione del genere puoi reagire distinto e rischiare di peggiorare le cose o metterti comodo e aspettare che la soluzione si presenti. No. Non mi direi che sei gay dopo tutta sta strada. Tantoronde sai come si dice in questi casi? No. E' anche io. Non mi direi che sei gay dopo tutta sta strada. Non mi direi che sei gay dopo tutta sta strada.